Ciao ragazzi e ragazze, oggi voglio parlarvi di un articolo bellissimo che ho letto riguardo il video marketing, nello specifico fatto su TikTok, ma che voglio usare come metafora anche di tutte le altre piattaforme, semplicemente perché se funziona su TikTok probabilmente significa che funziona su tutti gli altri social. E' stata fatta una ricerca da una testata americana che si chiama The Verge che ha raccolto i numeri di una serie di video virali, comunque di video molto visti, sulla TikTok degli Stati Uniti e non solo, in realtà sul TikTok mondiale, anche se la maggior parte di questi veniva dagli Stati Uniti che comunque hanno un numero di utenti su TikTok molto molto alto, quindi la probabilità che si viralizzi è comunque più alta. Alcuni video, tra i video più virali di TikTok, soprattutto nei profili con non moltissimi follower, sono video riguardanti le piccole aziende, quindi mestieri e attività che magari fino a qualche tempo fa nessuno si sarebbe sognato di considerare glamour. Ci sono quelli che salvano le api e gli alveari, ci sono quelli che tagliano gli alberi, quindi i boscaioli e ci sono anche quelli che si occupano di, diciamo, rinnovamento, sto cercando di tradurlo dall'inglese, di ristrutturazione, scusate, delle case. Questi video, io ne ho visti molti altri che riguardano anche per esempio i muratori e chi costruisce in generale sta nei cantieri per costruire le case e gli edifici, sono virali, sono virali, piacciono e portano, è stato provato insomma anche in queste interviste ai proprietari di questi business, ai marketing manager, portano attività in più, oltre a portare moltissime visite sul sito e ovviamente moltissimi numeri social, ma siccome ci interessano le vendite, ebbene tutti questi business hanno avuto un picco nella crescita delle vendite, quindi quando io vi dico che essere in video significa arrivare molto più che con altro tipo di contenuto, ci sono le prove che lo dimostrano. TikTok è una piattaforma dove farlo in modo più semplice dal punto di vista di raggiungere più pubblico, forse più difficile dal punto di vista tecnico, quindi forse si potrebbe cominciare da altri social. Vi dico però, se su TikTok c'è una sensibilità al business che è più bassa rispetto agli altri social, pensate che cosa potrebbe essere. Cominciare a fare video da un'altra parte, in un altro social. Dire che il vostro business non è glamour, non è sexy, non è una causa, è una conseguenza della vostra inazione. Pensateci, stop whining!